Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Veniamo subito agli aspetti concreti di questa vicenda, così come si sono manifestati dopo la pubblicazione del comunicato stampa della Procura di Parigi. Quello che è stato reso pubblico da parte degli inquirenti, se possibile, rende la situazione ancora più complessa da capire invece che più semplice da analizzare. Perché? Innanzitutto perché abbiamo un elenco di contestazioni che però sono evidenziate soltanto nella parte di diritto e non nella parte di fatto. In altri termini è possibile ricostruire esattamente quali sono le accuse, i reati che si assumono commessi da Pavel Durov, ma non è possibile sapere in che modo sarebbero stati commessi. Queste accuse infatti descrivono sostanzialmente il contenuto dell'articolo violato, ma non il fatto che sarebbe associato alla violazione della norma. Quindi possiamo fare solamente delle considerazioni di tipo necessariamente generale, almeno fino a quando non sapremo esattamente quali sono i comportamenti che sono contestati a Pavel Durov. In altri termini, per esempio, parlando di tutte le accuse che rientrano nell'ambito della complicità o del favoreggiamento del concorso, quello che non si capisce da questo comunicato è se la complicità sia stata nella commissione diretta delle azioni, per esempio, di riciclaggio, oppure se invece il fatto contestato riguarda una responsabilità indiretta di tipo gestorio, come pure sembra apparire dalla successiva contestazione che è quella di non avere cooperato con la magistratura. E anche su questo sarà necessario aspettare la pubblicazione degli atti, semmai saranno pubblicati, perché in strutture complesse, e Telegram lo è sicuramente dal punto di vista organizzativo, difficilmente queste richieste arrivano sul tavolo degli amministratori delegati, molto più spesso si fermano su quelli delle direzioni affari legali o degli uffici compliance. Il risultato pratico quindi qual è? Che siccome la responsabilità penale è personale, cioè dell'individuo e non della struttura in quanto tale, si tratterà di andare a capire se nella catena di comando queste richieste di cooperazione della magistratura siano state bloccate o non prese in considerazione per ordine espresso di Durov o per decisione autonoma di qualche altro livello della catena di comando. L'aspetto che mi sembra più interessante invece è quello che riguarda la violazione delle norme nazionali sulla crittografia, perché questo tipo di impostazione normativa del sistema francese sottopone l'utilizzo di crittografia a fini diversi da quelli dell'identificazione individuale o della verifica di integrità di file all'autorizzazione del governo. Autorizzazione che viene rilasciata anche tenendo presente le esigenze di sicurezza nazionale e di difesa del paese. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo tipo di autorizzazioni potrebbero implicare una sorta di dot des. ti consento di utilizzare crittografia per proteggere segreti di vario tipo, ma devo essere io stato in grado di accedervi in qualsiasi momento. Tradotto stiamo parlando di backdoor, stiamo parlando di key escrow, cioè di consegna obbligatoria delle chiavi, o di adozione di sistemi, chiamiamole di passepartout, per aggirare determinate protezioni. Il che pone una domanda, anzi due. La prima, effettivamente queste prescrizioni sono imposte ai fornitori stranieri di crittografia. La seconda, tutte le big tech che rendono disponibili prodotti crittografici in Francia, sia come oggetto principale del loro servizio, sia come funzionalità, hanno richiesto questa autorizzazione e se sì, quali sono le prescrizioni che sono state imposte dal governo francese? Con questo non voglio implicare che le varie big tech coinvolte abbiano surrettiziamente nascosto backdoor o altri meccanismi del genere nei prodotti in circolazione in Francia. Però, in nome della trasparenza, sarebbe forse utile sapere quali sono queste prescrizioni che il governo francese richiede agli importatori o comunque a chi offre prodotti e servizi basati su crittografia in Francia. Il tema diventa rilevante complessivamente perché si configura in modo abbastanza chiaro il tema della responsabilità per gestione, ma addirittura per progettazione di un sistema. La dico in termini molto semplicistici, quindi chiedo scusa in anticipo agli esperti sia di diritto sia di tecnologia per la banalizzazione. Però il tema è e rimane quello della legittimità o meno di tutelare, di progettare, chiedo scusa, sistemi a prova di polizia. Il tema è particolarmente rilevante perché, nonostante siano state in questa vicenda ma anche in altre più volte invocate le norme europee, dal DSA, al GDPR, bisogna essere consapevoli del fatto che in materia di sicurezza nazionale, di difesa, di ordine e sicurezza pubblica e di indagini giudiziarie, la giurisdizione degli Stati membri è sostanzialmente esclusiva. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le norme europee non possono essere applicate, non possono avere valore nell'ambito appunto strettamente legato alle prerogative individuali degli Stati membri. Poi nei fatti stiamo assistendo a un processo di erosione da parte dell'Unione Europea a svantaggio degli Stati membri anche di questi ambiti. Però fino a quando vogliamo approfondire la questione da un punto di vista strettamente giuridico il tema rimane. In queste materie la sovranità nazionale è totale. Il risultato pratico quindi è che nonostante con buona pace delle norme europee ciascuno Stato, e la Francia lo ha fatto perché la norma sulla responsabilità del gestore di piattaforma mi sembra sia della fine del 2023, ciascuno Stato può legiferare in modo autonomo dall'Unione Europea con l'unico limite della propria Costituzione interna. Per esempio su un tema collaterale ma sempre legato agli aspetti anche di sicurezza rilevo che la Francia si è dotata di una norma molto intelligente che è quella che consente sostanzialmente la ricerca di vulnerabilità a fini di ricerca, quindi non chiaramente a fini criminali e non la rende appunto penalmente rilevante. Questo è un buon compromesso fra evitare appunto che ci siano delle azioni deliberate per procurarsi exploit, bug o quello che sia e poi fare danni e invece la necessità di consentire anche lo sviluppo della ricerca e perché no anche dei servizi indipendenti basati sull'analisi delle vulnerabilità che molto spesso i vendor magari o non hanno interesse a diffondere oppure pecciano, come si dice in gergo, in tempi incompatibili con le necessità dell'utenza. Quindi per tornare al caso di Durov, la cosa importante da capire è che condivisibile o meno che sia, giusta o sbagliata che sia, stiamo parlando dell'applicazione di una specifica norma del codice penale francese e quindi in questo senso l'azione della procura francese è giuridicamente non contestabile nel senso che sarà ovviamente oggetto di dibattimento fra gli avvocati della difesa e i pubblici ministeri, ma sul fatto che l'azione dei giudici francesi sia strattamente lecita non può esserci discussione. Quindi buona parte delle considerazioni che vengono fatte su questo caso, almeno dal punto di vista giuridico, sono relativamente fondate. C'è poi l'aspetto politico sul quale non entro perché non ho elementi oggettivi per farmi un'opinione e quindi qualsiasi teoria dovesse venire fuori sarebbe essenzialmente una wild speculation perché di questa vicenda molto probabilmente non conosceremo mai i contorni reali e nemmeno la sostanza, oltre che ai contorni. Detto questo, vi ringrazio per la pazienza e vi auguro buon proseguimento.